Mancano pochi giorni ormai all'inizio di una nuova edizione di Percorsi Digitali, un'iniziativa dell'Associazione Culturale Love Vallo di Diano, formata da un gruppo di giovani della provincia di Salerno entusiasti di voler far conoscere la propria terra, percorrendo fotograficamente i paesi in cui vivono, equipaggiati di macchine digitali, smartphone, tablet e soprattutto dell'hashtag giusto, per poter condividere i propri tesori in tutto il mondo su tutti i social network più famosi. Per l'edizione 2014 i ragazzi di Love Vallo di Diano hanno voluto riproporre questa entusiasmante esperienza e con l'aiuto di collaboratori e diverse associazioni locali hanno stilato un nuovo calendario ricco di appuntamenti. In tutto 15 date che porteranno i partecipanti alla scoperta dei seguenti borghi. Si inizia il 6 aprile a Caggiano, il 27 e 28 aprile i percorsi digitali approda data in Alucana, per poi concludere il ciclo degli eventi il prossimo 26 ottobre a Padula. Ogni percorso sarà diverso ed unico, con un programma stilato ad hoc dai referenti di ogni comune del Vallo. Arte, storia, cultura, tradizioni, gastronomia e tante sorprese per chi deciderà di prenderne parte.